Bene, quest'oggi vi presento Ghandar Islam, che sei del 2004, giusto? Sì. Raccontaci un po' di te. Allora, vengo da Montichiari e ogni giorno prendo il pulmino e ci impiego mezz'ora da casa mia qua per venire all'allenamento. E durante il viaggio a volte mi metto avanti anche con lo studio e tutto fa così, non rimango indietro. Ieri sei stata giù a Milano la convocazione per l'allenamento con la nazionale del 16. Tu centro pavesi, come ti sei trovata? Mi sono trovata bene, anche le ragazze erano simpatiche e tutto. Ma al di là della simpatia, l'antipatia che può anche vedere con la pallavolo, come ti sei trovata con il lavoro che è stato richiesto da Daniello? Mi sono trovata bene, anche se alcune rincorse erano un po' nuove. Cioè, erano nuove. Sì, certo. Come la fast fatta da posto 2, senza andare in 3 e farlo. Sì. Con loro 3-4 giorni, tra 5 giorni, con Elisa Marinoni, ok? Andate a fare questo torneo qua in preparazione degli O-Pay. Cosa ti aspetti? Spero che andrà bene. E' un po' anche un po' ansia. Vabbè, penso che sia normale. Anche se siamo in 15, spero di giocare e fare il mio meglio. Beh, sicuramente ti darà delle opportunità. Stai tranquilla, gioca come sai fare, che sei brava. Tengo a precisare che l'Islam, l'anno scorso, va bene, non voleva neanche venire qui, ma voleva rimanere a Montichiari, giusto? Che poi sono voluto parlare con papà, mamma, poi ti sei convinta a continuare con noi, anziché rimanere a Montichiari. Ho avuto un percorso che è iniziato a giocare nelle categorie CSI e poi comunque abbiamo insistito a far giocare sempre due set sia in 14 sia in prima divisione per dargli campo perché è molto indietro in fase di gioco. Fino ad arrivare, siamo arrivati all'esordio in B2, che è l'ultima giornata della B, dove ha fatto addirittura sei punti. E quest'anno ha continuato a crescere fino ad arrivare a questa convocazione nazionale. Pertanto questo è un segno importante perché si tende sempre a confrontare le ragazze, ci sono comunque ragazze che sono un po' in anticipo, lei magari è un po' in ritardo rispetto alle sue coetanei, però pian piano stai venendo fuori e stai dando sfogo al tuo talento. Bene Islam, in bocca al lupo all'ora per tutto, soprattutto per la convocazione nazionale. Ciao!